Lì di Beccano è connesso la strada Eh lo so E ti parlare come la cosa c'è? Mamma mia Emanuele Beh è un'apertura all'area come cosa non è che sia Infatti è l'apertura C'è 60 metri di apertura all'area Dio mio Comunque è una bella pista quella di Alghero Certo No qui abbiamo È una bella È una bella pista Certo Adesso il 3 gli mettiamo mano Per caricare No c'è questa zona qui che sta creando qualche problema Ho capito Proprio dopo adesso E dobbiamo Ma è stata assente una valla C'è stato assente No qui c'è un canale Eh esatto È frana Abbiamo avuto problemi con la via del lunaggio Abbiamo avuto problemi con la pista Con la pista Questo vorrebbe uscire da Dal Bravo Eh sì è l'unico Abbiamo avuto problemi con la pista 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.